scuola grazie per i file so che ti hanno risposto poi mi saprai dire allora Vito arriviamo al punto Digi Davidex ci ha richiesto nuovamente questa settimana la canzone di Robottino quella in italiano che a me piace veramente tanto a te piace come chi ha Robottino certo non è un pizzaiolo addirittura si con il Robo Rosso e Blu credo è Robo Vergogna no ha detto Robo Rosso e Blu ha detto che è Robo del Bologna ah ho capito del Bologna non ho capito comunque ragazzi fate quello che volete l'importante basta che me lo lanciate allora il brano è richiesto da Digi Davidex ed è Robottino mi piacerebbe tanto che lo facesse il nostro Vito Vito ma vuoi lanciare un messaggio guarda che hai tantissimi fan sulla bacheca vuoi dire qualcosa a loro? come casco? eh? come casco? eh niente com'è? com'è? Robottino? Robottino? ecco ma Digi Davidex oh Digi Davidex potessi dire qualcosa di più vabbè allora Alessia Alessia Bernardella dice che a me Beyoncé mi fa una cippa che canto meglio di Beyoncé vedi? qualche volta vi preparerò una canzone delle Destiny's delle Destiny's Child ma dove? a fine trasmissione a fine trasmissione? io devo vi devo salutare perché mi viene da ridere non riesco più ad andare avanti Robottino Robottino eccolo Robottino eccolo qua dov'è? dov'è? lancialo Vito eccolo lanciato spostati che arriva ciao